Ecco, una volta che ci sentiremo pronti a passare in modalità avanzata, piaceremo il pulsante in alto Advanced, verremo avvertiti ovviamente di cosa vuol dire passare in modalità avanzata, molte funzioni che adesso sono semplici in modalità avanzata saranno più complesse perché ci sarà chiaramente la possibilità di impostarle molto più finemente, con un numero ovviamente assai superiore di opzioni disponibili. Rispondiamo di sì, ecco qua, qui adesso siamo in modalità Advanced, in modalità Advanced possiamo ulteriormente andare in modalità Esperto, quindi in modalità Advanced abbiamo un certo numero di opzioni, in modalità Esperto ne abbiamo molto più del doppio. Questa sarà la modalità che adesso andremo a illustrare fidemente nelle varie sezioni, opzioni primarie, sezioni Bluetooth, sezioni in modalità di autoattivazione, avvisi, notifiche dalle A, visualizzare notifiche, modalità operative, impostazione del text to speech, personalizza il widget. Ecco qui sono tantissime opzioni disponibili che vi permetteranno di impostare la mia applicazione assolutamente come vorrete voi. Considerate che nel caso del remoto che non ci sia la possibilità di fare quello che avete in mente, ci sarà comunque la possibilità di programmare la mia app direttamente con un plugin Java. Sicuramente questo è fatto per esperti del settore, però è anche vero che io ho un sogno, quello che è un domani, chi sa programmare possa mettere a disposizione di tutti gli altri i suoi plugin e farò una pagina apposta per questo, in cui comincerò a mettere i miei plugin. Ok, ecco una cosa importante prima di passare a illustrarvi le opzioni una per una, quando poi non avrete neanche più bisogno delle didascalie, perché sarete esperti, potrete passare in una modalità diciamo di visualizzazione più professionale, andate qui in fondo, opzioni più leggibili, lo premete una prima volta e le opzioni diventano più grandi, e opzioni più leggibili ulteriore, vi dà la possibilità di vederle direttamente nella forma senza didascalie, con un'iconcina facili ovviamente da raggiungere e anche da visualizzare con un look decisamente più professionale.